dunque follower oggi è stata sostanzialmente è il primo maggio e mezzanotte qualcosa è stata sostanzialmente una giornata di merda e come al solito volevo concludere con una canzone di quelle che accompagnano insomma la mia giornata in particolare farò una coreografia importante questa è dedicata ai lavoratori vai battato il quinto il nostro ballo è proprio bello l'etichetta che vi burrà l'etichetta che ti che ti dà che giornata fantastica l'etichetta che ti che ti dà il problema ormai non esiste più il sole splende e il cielo è blu l'etichetta che ti grida l'etichetta che ti grida che tardi ormai andiamo dai un grande ciao a tutti voi ciao amici non scordatevi di noi ci vediamo presto ciao ciao